Alessandro torna la fermata del Frecciabianca a Giulianova ma state lavorando anche per la stazione di Vasto? Assolutamente sì, nel 2011 Trenitalia ha deciso di cancellare le fermate di Frecciabianca in Abruzzo. Noi con un anno di lavoro al governo grazie al presidente D'Alfonso, alle amministrazioni locali, alla DMC nel caso di Giulianova e agli operatori turistici siamo riusciti a far valere la forza dei numeri e dal 1 agosto avremo di nuovo Frecciabianca a Giulianova che ferma da Milano verso Giulianova e da Giulianova chiaramente verso Milano. Nel frattempo continua il lavoro identico per quanto riguarda Vasto. Oggi chiudiamo una partita e nel frattempo ne stiamo giocando un'altra. Sindaco, una bella notizia per Giulianova? Non è una bella notizia per Giulianova ma per l'intera provincia di Teramo. Bisognava dimostrare con i numeri che il bacino del medio adriatico più importante è quello che fa riferimento alla stazione ferroviaria di Giulianova. Nelle sette città che si attestano sulla costa teramana sviluppiamo 3,5 milioni di presenze che rappresentano il 50% dell'intera regione Abruzzo, il 65% delle 19 località che si attestano sulla costa della regione Abruzzo.